Ok, grazie. Passiamo all'ordine del giorno. No, non concedo parole che non siano inerenti all'ordine del giorno. Rispettate il regolamento. Qui c'è la question time dove venire un'ora e mezza prima e un'ora e mezza prima potete dire ciò che volete. E allora devo iniziare gli argomenti. Io devo iniziare gli argomenti. Io devo iniziare gli argomenti. Io devo iniziare gli argomenti del Consiglio Comunale. Se lei vuole parlare, viene prima, c'è la question time che dura un'ora e mezza, è stata realizzata apposta per dire tutto ciò che lei vuole. Io non gli concedo la parola e vado avanti con il Consiglio Comunale. Approvazioni verbali della seduta precedente. Approvazioni verbali della seduta precedente. No, non sto aiutando il Consiglio. Sto facendo rispettare il regolamento del Consiglio Comunale. Sto rispettando il regolamento del Consiglio Comunale. Devo fare una comunicazione non riguardante il Consiglio. A lei, Presidente del Consiglio. Lei viene alla question time, c'ha un'ora e mezza di tempo e può dire tutto ciò che vuole. C'è la question time. Il personale lo fa nella question time, non durante il Consiglio Comunale, che io devo discutere all'ordine del giorno. Io metto in approvazione i verbali della seduta precedente. Approvazione della seduta precedente. Chi è favorevole, ressi seduto. Chi è contrario, si ha simpieti. Io sto approvando il regolamento del Consiglio Comunale. E lei il regolamento deve approvarlo da due anni a questa parte. Io sto approvando il regolamento del Consiglio Comunale. Capito? Io sto approvando il regolamento del Consiglio Comunale. Cosa significa? Per cortesia. Io sto approvando. Se volete dire quello che volete, c'è la question time, che dura un'ora e mezza. Per cortesia, seduti. Grazie. Metto in votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole, resti seduto. Chi è contrario, si alzi in piedi. Chi si astiene, lo dichiari. Favorevole, unanime. Si dà atto all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, resti seduto. Chi è contrario, si alzi in piedi. Chi si astiene, lo dichiari. Favorevole, unanime. Punto 3 all'ordine del gioco.